Un tempo tutti gli accordi erano scritti su pergamene e timbrati con ceralacca. Eh sì, erano pelli di pecora. Alcune erano troppo leggere e volavano via. Altre andavano in fumo. E così si finiva sempre per discutere su cosa c'era scritto. Ma nel 1500 la stampa arrivò a Mondovì e gli accordi più importanti furono raccolti in un librone, stampato con caratteri mobili. Eccolo qui! Il libro dei privilegi. Raccoglie i più importanti privilegi ottenuti negli anni dai morregalesi. Come quello di non pagare i carti pedagli. Di avere in certa libertà di non pagare le tappe in battaglia. E anche l'accordo sottoscritto alla fine degli scontri con la città di Briga. Il diritto di ricevere ogni anno da Briga due sparvieri. Che poi, chissà come, si trasformarono in due calzini. Ma quanti calzini saranno arrivati a Mondovì? Che poi? Che poi, chissà come, si trasformarono in buona della storia.